ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di ocean crisis un gioco pubblicato da shepard kit tramite kickstarter ideato da pronunce totalmente inventate xiao rucen xian pujan e qi wei lin troviamo anche subito qui le classiche indicazioni di giochi a tavolo 2 5 giocatori al tavolo 8 più l'età consigliata 30 60 minuti la durata stimata delle partite andiamo a vedere cosa cosa ci dice il retro ecco qui un gioco cooperativo per salvare l'oceano i rifiuti oceanici sono diventati un disastro devastante nel ventunesimo secolo qui in ocean crisis i giocatori devono cooperare per ripulire le immondizie riciclare ridurre e per la ricerca tecnologica per trovare una soluzione per questo problema ambientale a parte la storia principale ci sono anche sei eco missioni e scenari per sfidare i giocatori pronti a fare di più per l'ambiente il destino dell'oceano e nelle vostre mani ecco qui come si presenta il gioco preparato tesserine pedine di legno alcune indicazioni fortuna 2 stelline azione 3 strategia 3 e tema 4 diamo una misurata e poi apriamo la scatola allora è rettangolare si vede siamo a 31 centimetri e 8 per 25 centimetri e 8 e uno spessore di 5 centimetri e 2 non abbiamo detto chi ne è illustratore lo troviamo qui le illustrazioni sono di mang yung yang ping kwan kiang bene via il cielo fa mi svelo già un colpo di scena che il gioco è distribuito in italia da fever games per cui è possibile trovare anche il regolamento in italiano mentre il resto dei componenti è quello insomma della campagna pop starter ecco qui il regolamento originale poi qui abbiamo il tabellone formato da quattro pezzi di puzzle eccolo con le varie aree il fiume la terra l'oceano qui abbiamo il fiume che scende con le sue aree se riempiamo tutte e sei le caselline dell'oceano siamo spacciati partita persa una fustella con le tessere eccole qua ci sono tessere di vario tipo sono tessere strada qui ne vediamo il fronte che servono a collegare le varie parti del tabellone riempiendo la griglia che abbiamo vista prima possiamo staccarne qualcuna per vederne apprezzare in maggior dettaglio la qualità insomma cartone grosso non si piega poi abbiamo la plancia oceano che ruota ok e serve a distribuire gli immondizia abbiamo il sacchettino di stoffa con il logo dell'editore qui c'è tutta la parte di legno dadi compresi si vedono attivisti dadi animali e poi l'impianto di riciclaggio l'aspira rifiuti guardiamo in dettaglio allora abbiamo gli attivisti poi gli animali abbiamo paguro squalo delfino e tartaruga abbiamo i dadi uno con i numeri arabi che va da 0 a 5 e l'altro con i pallini e poi l'aspira rifiuti ok abbiamo anche dei dischetti e dei cubetti cosa ci resta ci sono alcuni gettoni qui ci sono altre fustelle più piccole ecco da dove venivano i gettoni di prima segnalino prima giocatore e poi segnalini animale qui abbiamo le missioni e gli scenari e più una carta informativa ecco un'idea di uno scenario salvare gli aironi difendere gli squali proteggere i granchi poi le missioni il paguro eremita i delfini e i nidi di tartaruga ci mancano le carte sono 17 carte round e 5 carte miglioramento ok queste sono le carte miglioramento che permettono di influenzare i dadi aggiungere un più uno passare da 0 a 5 riciclare con più facilità posizionare tra due posizionamenti migliori e poi un ritiro queste invece sono le carte round dalle più facili standard a quelle più difficili bene non ci resta che rimandarvi alla recensione già presente sul nostro blog e ricordarvi che qui sotto potete esprimere il vostro apprezzamento con un pollice mentre da quest'altra parte potete iscrivervi al nostro canale e mantenere accesa la campanellina per ricevere i futuri aggiornamenti delle nostre uscite grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.